E' chiarissimo, è come prima, finalmente, fa il quadro, eh, che fa il quadretto, eh, mica male. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Grazie. Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla proiezione in prima mondiale di Tuo Chang, Drag World, film in concorso. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the drag world premiere of Tuo Chang, Drag World, film in concorso. Sono presenti in sala, please welcome il produttore, Lillian Min. Lillian Min. Lillian Min. Lillian Min. Lillian Min. Sni Amhain. Lillian Min. Wallis Cho. Valor Y立ian. Il regista Johnny Torre Il regista Johnny Torre